benvenuti da one piece i massimi esperti in questo nuovo video teoria oggi parleremo di quella che per noi probabilmente sarà una nuova compagna della ciurma di cappello divano ci riferiamo a Yamato ma in questo incredibile video non saremo soli ma ci accompagnerà l'incredibile gun comunque sappiamo bene che oda spesso si è rifatto ai cosiddetti pattern per le varie entrate in ciurma dei nuovi mugiwara no assegnando loro vari ruoli però è pur vero che oltre ai ruoli che sono comunque importanti più o meno a seconda dei casi vi è un'altra cosa che oda ama fare per caratterizzare i personaggi cioè la realizzazione dei loro sogni è vero che rufi deve realizzare il suo sogno diventare il re dei pirati ma oltre ciò deve far sì che anche i suoi compagni realizzino i propri sogni andiamo ora ad analizzare due personaggi femminili che per noi potrebbero entrare in ciurma cioè ci riferiamo a carrot o carrot come preferite e Yamato entrambe infatti potrebbero realizzare un sogno iniziamo da carrot e analizziamo perché potrebbe essere un membro della ciurma carrot è un visone coniglio sappiamo quanto sia importante la tematica della diversità delle razze in one piece e di come rufi porta avanti la libertà l'uguaglianza la non discriminazione cosa che sta già facendo jimbe un rappresentante degli uomini pesce carrot viene mostrata per la prima volta a lì inizia il suo rapporto con i mugiwara dopo partecipa alla missione a wall cake island durante tale viaggio fece da vedetta sulla nave dimostrando un suo possibile ruolo tra i mugiwara successivamente aiuta ciò per nel mondo degli specchi e combatte per poco tempo anche in forma su long per allontanare e rallentare diverse navi dei figli di big mom rendendosi molto utile e dimostrandosi molto forte in tale forma importante il suo rapporto col pedro lui gli fece da mentore e gli parlo dell'alba ed è il fatto che arriverà per ognuno di loro il momento di brillare riferendosi al dialogo che ebbe da piccolo con roger lei quindi potrebbe portare avanti il desiderio di pedro che all'epoca voleva salpare con roger quindi se accompagnasse rufi nel proseguimento del suo viaggio è come se in un certo senso avesse compiuto il sogno di pedro questo però potrebbe già accadere con la fine di wano e l'apertura dei confini infine a wano carrot sta dando il suo contributo in battaglia e parlando invece del suo livello combattivo penso che la coniglietta di zoo potrebbe dare a mugiwara un bel power up perché lei è forte sia nella sua forma normale e sia nella sua forma su long per non parlare poi del suo probabile ruolo che potrebbe avere sulla sanni ossia la vedetta anche se sulle navi non è che sia un ruolo onnipresente ma con oda tutto è possibile detto ciò non escludere i carrot a priori anche perché l'autore ha fatto sì che noi conoscessimo la coniglietta nella saga di walk e kailan ed il mangaka non fa mai niente per niente e adesso analizziamo le origini del nome Yamato iniziamo con vari riferimenti storico leggendari che vi dicemmo già al capitolo 979 Yamato è il nome della nave ammiraglia da guerra giapponese Yamato era il nome dell'antica provincia i cui clan unificarono il paese lo spirito di Yamato Yamato Damashi è un allocuzione usata dai giapponesi per riferirsi all'epoca d'oro del giappone secondo altre interpretazioni fa riferimento anche al carattere coraggioso e indomito dei giapponesi Yamato Takeru era un leggendario principe guerriero giapponese che riuscì a vincere varie battaglie per il bene del suo paese nonché figlio dell'imperatore Keiko nei vari capitoli che si sono susseguiti Yamato ha approfondito sempre di più il suo rapporto con Rufi oltre che con Momonosuke per esempio nel capitolo 983 Yamato dice a Rufi che lo stava aspettando la cosa molto importante è che dopo aver assistito alla morte di Oden dopo aver ascoltato le sue parole dopo aver letto il suo diario lei potrebbe aver accomunato Rufi a Joy Boy l'uomo che sarebbe arrivato per salvare Wano Kuni e aprire tali confini conosce anche molto importante la frase che Roger disse a Oden e a Newgate che è la medesima che Rufi disse a Sabo e Ace aggiungiamo anche che lei disse a Rufi che gli ricordava molto suo fratello Ace sotto vari aspetti inoltre sempre Yamato ha dimostrato di conoscere molto bene praticamente tutti i Mugiwara nei vari dettagli nel capitolo 985 notiamo come Yamato sia un personaggio dei comportamenti molto bizzarri proprio in linea con i Mugiwara lei vuole andare via dal Wano Kuni e da Onikashima vuole essere libera inoltre data la prevalenza di uomini in ciurma un'altra donna ci vorrebbe particolare anche il fatto che Rufi la chiami con un suffisso amichevole Yama O come fece con Kid e con L'O e già questo ci fa capire che Rufi la consideri un'amica un ulteriore indizio potrebbe anche essere dato dal fatto che Yamato insieme a Rufi è comparsa sulla copertina di un numero di Shonen Jump di fatti come abbiamo assistito al flashback di Yamato insieme ad Ace loro due hanno combattuto poi hanno bevuto insieme hanno parlato di diverse cose tra cui Rufi hanno parlato delle avventure per mare dell'esterno di Wano Kuni e già lì Yamato aveva manifestato il sogno di prendere il mare di viaggiare e infatti chiese ciò ad Ace purtroppo però come sappiamo ovviamente Ace non poteva mantenere tale promessa promessa che però cadrà sulle spalle di Rufi che se ne farà carico portando con si Yamato molto probabilmente importante adesso analizzare il livello combattivo di Yamato. Yamato darebbe sicuramente un upgrade di forza alla ciurma così da avere a parte Rufi naturalmente quattro guerrieri di assoluto livello Zoro, Sanji, Jinbe e Yamato appunto. durante la narrazione di Onigashima abbiamo assistito a vari indizi sul possibile livello di forza di Yamato innanzitutto quando mise KO momentaneamente ulti quest'ultima ci disse che la tecnica di Yamato era sì la stessa di suo padre cioè di Kaido il Thunder Bagua ma aveva la metà della forza oltre ciò abbiamo assistito anche ad un breve scontro con Sasaki e i suoi corazzati e lì Yamato ci lasciò intendere che poteva trasformarsi di fatti vedemmo i suoi denti diventare molto affilati tant'è che Sasaki ne rimase scioccato però non abbiamo assistito alla sua trasformazione completa inoltre abbiamo anche visto Yamato mettere KO un numbers accia con un solo e potente colpo un'onda d'urto sprigionata dal suo Kanabo, la sua mazza, la sua clava insomma negli ultimi capitoli abbiamo visto Yamato che si appresta a raggiungere Rufi sul tetto quindi potrebbe unirsi anche lei allo scontro e rendersi molto utile inoltre grazie a Rufi lei non ha nemmeno più le manette che la legavano in secondo luogo deve ancora trasformarsi è qui molto interessante proviamo a vedere ora che frutto del diavolo potrebbe avere iniziamo con l'opzione della tigre bianca uno dei quattro siling una delle quattro bestie guardiane della mitologia e lì c'è anche il possibile parallelismo ne parliamo già molto tempo addietro no? del collegamento fra il drago azzurro Kai e la tigre bianca Yamato nella tradizione cinese che è ancora più antica di quella giapponese entrambi cioè la tigre accucciata e il drago nascosto rappresentano ciò che indica i lati nascosti una seconda opzione molto affascinante sempre riferendoci ai siling sarebbe quella del kirin di fatti a volte si sostituisce alla tigre bianca la biacco divenendo perciò uno dei quattro animali sacri assieme al drago alla fenice e alla tartaruga il suo corpo è un insieme di vari animali tuttavia può essere raffigurato con la testa di un drago o di un cavallo con un corno sulla fronte il corpo di una tigre o di un cervo e la coda di un bue il kirin si dice sia coperto di squame come un pesce ed è avvolto dalle fiamme inoltre è in grado di volare la sua apparizione si dice essere anche di buon presagio e che dire è nata come una battuta ma in verità io almeno ci ho sempre creduto ovviamente devo ripetere ogni volta in live abbiamo parlato dell'ovvio diamato non è che entra in ciurma è già in ciurma insomma carrot in ciurma ci potrebbe stare benissimo ma per noi diamato a qualcosa in più sicuramente per essere una nuova mugiwara inoltre anche se non è all'interno del manga e non è canonico come direbbe qualche amico la classifica finale dei personaggi preferiti one piece mette carrot all'ottavo posto e Yamato all'undicesimo superando molto anche altri mugiwara e questo è incredibile come cosa infine ricordatevi bene che rufi disse di volere almeno dieci compagni ergo gliene manca ancora un ultimo per noi andrebbe benissimo una delle due anche se come già detto preferiamo Yamato poi magari perché no o da esagera e le fa entrare entrambi in giurma incredibile detto ciò se siete arrivati fino qui hashtag Yamato in ciurma ringrazio il gun per aver partecipato a questo incredibile video e anche a kataku e al canterino brook ricordatevi tutti i nostri social che trovate qui in descrizione inutile che li ripeto solo seguiteci importante molto importante molto importante su instagram anche oggi come sempre abbiamo portato solo la verità aspetto un vostro commento qui per dirci quello che volete anche un commento da sfogliatore perché no è stato un commento da sfogliatore per la sfogliatore per la sfogliatore per la sfogliatore